Lo sportello del cittadino è a Mottola ed è un'anteprima della sedicesima edizione del presepe vivente. Siamo con Pietro Palagiano, organizzatore della manifestazione. Ci dica proprio a pillole, come è la nostra trasmissione, qualcosa su questo presepe vivente. Innanzitutto venite a Mottola e non ve ne pentinete, perché la sedicesima edizione del presepe vivente di Mottola, un presepe vivente stupendo, soprattutto per la location. 16 anni di pura passione e pura tradizione, le date sono quelle del 20 dicembre e del 5 gennaio, mentre il 27 dicembre ci sarà un'altra data nel centro storico mottolese, dove rappresenteremo il presepe di Greccio. Ci sarà anche qualcosa di mattina? Sì, c'è una novità, quella dell'apertura mattinale e anche quella pomeridiana. E allora l'appello forte, caldo, il presepe vivente di Mottola, veniamo tutti a visitarlo. È la nostra storia, è la nostra cultura, è la nostra identità cristiana.